12 tipi diversi di gelato ci sarà un ingrediente segreto oddio ti vedo c'è difficoltà siate buoni è consistente solo un po' è qualcosa di strano senape ketchup salsa di soia patatine formaggio grattugiato il brodo granulare e non c'è moscata mamma mia quello che c'è sempre acqua picca non mi riesco a concentrare se parli ho granelli di sale tra i tutti i denti faccia david ma smettila di sbrodolare stai zitta ora non mi riprenderò più da questo da questo trauma siete veramente delle brutte persone perché vi vogliamo bene non posso ragazzi sto male buongiorno buonasera e benvenuti nella cucina del paolino oggi abbiamo preparato una ricetta speciale come far vomitare mister david ci vuole un po di maionese giusto per iniziare un po di ketchup perché sappiamo quanto lui ama aggiungiamo ancora un po di maionese e mi stavo dimenticando come primo ingrediente abbiamo usato senape quelli che hanno visto la puntata sanno sicuramente quanto a mister david era piaciuto gelato con senape ecco il nostro gelato speciale è pronto veramente buono che colore prima parte devi tirarlo fuori è già qui ok così no che schifo che cosa stiamo preparato ma certo sembrerebbe una bistecca ti piacerebbe ma in realtà maionese ketchup forse senape sì così ti lo puoi godere di nuovo visto che ti era piaciuto nella puntata già che sale tutto qua e aspetta quando lecchi anch'io ti voglio bene ma non è colpa nostra se tu fai sempre vincere Oriana hai mangiato solo maionese basta no vuoi anche pasta potevo metterti anche pasta prossima volta ti vedo in difficoltà dai è un po di gelato tu mangiato tutto no però ancora un morso e non vomitare sei vicino non piangere ok va bene dai no 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 Grazie a tutti.